in un paio di frangenti di quest'ultima corsa fernando lonso era campione del mondo vero però purtroppo non quando contava ovvero dopo la bandiera scacchi no devo dire è chiaro l'ammarezza per una sconfitta del genere è molto forte però dobbiamo essere orgogliosi di uscire a test alto da questo campionato perché onestamente stavo in questi momenti dove ti rivedi tutto quello che è successo è stato un anno così intenso rivedere come la squadra ha lavorato come è stata brava impeccabile sui pit stop sulle strategie sull'affidabilità l'unica squadra che non si è mai fermata e perdere i tre punti un campionato così brucia anche perché non dimentichiamoci che noi abbiamo corso 18 gare su 20 e quindi un campionato così tirato è stato un qualche cosa che alla fine vuol dire tanto in termini di punti di posizione detto questo ripeto una gara intensa straordinaria di più oggi non potevamo fare quindi sono contento per quello un grande dispiacere per fernando perché se lo meritava così come onestamente se lo meritava tutta la gente a casa maranello qui in pista e anche un po i nostri tifosi ovviamente che ci hanno sempre sostenuto e quindi perdere due volte su tre all'ultima gara è un po pesante però questa è la bellezza dello sport ti dà sempre la possibilità di ritrovare te stesso guardare avanti e partire dopo domani con una nuova sfida sportiva che deve essere affrontata nello stesso modo con la volontà questa volta di vincere fernando alonso ha fatto una stagione grandissima si è stato davvero straordinario è stato forse sono di parte ma il pilota che si meritava di più in assoluto questo titolo ha portato a casa punti quando la macchina non era all'altezza è stato un punto di riferimento sempre ha sempre dato il massimo quindi il dispiacere ancora di più perché ripeto se lo meritava la stragrande da un punto di vista tecnico bisognerà davvero lavorare tanto sulla qualifica sì questo è il punto dolente della stagione perché sicuramente sotto l'aspetto della pura prestazione non siamo stati la macchina migliore e lo siamo stati forse nel periodo dove abbiamo vinto le gare all'inizio dell'estate e poi dopo non siamo stati più in grado di diciamo di essere davanti come prestazione assoluta e quindi sicuramente questo è l'aspetto su cui dovremmo intervenire da un punto di vista tecnico sul progetto della nuova macchina confermi che ci sarà la chiusura della galleria del vento e si lavorerà per migliorarla sì ma onestamente oggi della galleria del vento interessa solo chi la deve chiudere o chi deve aprire non credo che interesse nessun altro ma detto questo ripeto guardiamo ad oggi e usciamo a testa alta felipe massa è stato un ottimo team player nell'ultima parte della stagione non dimentichiamoci che nelle ultime quattro gare noi abbiamo fatto più punti di tutti quanti grazie al contributo di felipe che sono contento aver confermato per il prossimo anno dopo un inizio stagione difficile dove tra l'altro c'erano tante pressioni a far sì che non fosse più lui il nostro pilota per il prossimo anno devo dire abbiamo ritrovato un felipe molto competitivo abbiamo trovato un felipe come sempre stato uomo squadra che ha sempre lavorato nell'interesse della squadra e quindi sotto questo profilo abbiamo una garanzia importante per la prossima stagione la ferrari ha difeso il secondo posto nel campionato costruttori contro la mclaren che nel finale della stagione era la vettura più performante vero ma la mclaren era la macchina migliore anche all'inizio dell'anno questo vuol dire che non sono stati in grado di essere prestazionali in altre aree che sono fondamentali se uno vuole vincere noi devo dire siamo stati sicuramente molto bravi in tantissime aree fondamentali per vincere lo siamo stati un po' meno sull'aspetto della prestazione assoluta vera e propria ma ribadisco un concetto abbiamo corso 18 gare su 20 personalmente ci hai messo il cuore tutto l'impegno come ti senti? ma è chiaro che ci si sente un po' svuotati ma ripeto sono sensazioni personali ma che hanno vissuto anche tanti miei colleghi che come me magari hanno hanno avuto il privilegio da un lato e anche un po' l'onere pesante dall'altro di uscire sconfitto da delle finali importanti di carattere mondiale però ripeto questo anche il bello di questo ruolo che che ribadisco hanno la fortuna di vivere in pochi grazie in bocca al lupo per il prossimo anno crepi grazie a tutti voi e un saluto a tutti i nostri tifosi e ringraziandoli per come ci hanno sostenuto sappiamo che abbiamo un debito anche nei loro confronti